Ben tornati su meteogiuliaci.it, domenica 15 dicembre ancora alta pressione protagonista sull'Italia come vediamo dall'immagine del satellite virtuale questo vasto campo anticiclonico che continua a proteggere tutta l'Europa centro-occidentale ma in ulteriore lieve indebolimento consentirà un maggiore avvicinamento delle perturbazioni atlantiche che riusciranno a portare un ulteriore aumento della nuvolosità ma anche un'ulteriore diminuzione delle nebbie come vediamo dalla grafica quella di domenica sarà una giornata grigia in quasi tutta Italia a causa di nebbie o nubi basse in pianura padana e nelle zone interne del centro nuvole invece sui settori occidentali dalla Liguria fino alla Calabria e sulle due isole maggiori mentre un po' di sole resisterà solo sulle Alpi e sul medio e basso versante adriatico per quanto riguarda le temperature non subiranno variazioni di rilievo a parte un leggero calo al nord dove le massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi fino a 14 in Liguria valori tra 9 e 15 al centro tra 13 e 17 al sud e sulle due isole maggiori quindi ancora un clima relativamente mite per la stagione concludo anticipandovi che l'alta pressione resterà protagonista sulla scena italiana ed europea almeno fino a metà della prossima settimana maggiori dettagli su questa tendenza nelle prossime edizioni vi invito quindi a seguire tutti gli aggiornamenti sul nostro sito meteogiuliacci.it